Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in questo nuovo video Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in questo nuovo video Io sono Manuela, queste facce di veloce opinioni e prendiamo un caffettino insieme Il video che vi propongo oggi è un video che vi sono nel canale non so se uno o due volte di Eleonora Manni vi metterò il suo canale sotto impressione ma penso che già la conosciate abbastanza in ogni caso vi metterò il nome del canale Link perché è un video che mi ha molto molto colpito favorevolmente a parte che io la trovo una persona deliziosa veramente questa idea di dire ecco vi dico il nome del video le cose che non compro più io non so se lei l'ha visto in altri canali ma in ogni caso è un video secondo me molto molto importante fate conto che YouTube è pieno di sponsorizzazioni pubblicità c'è chi fa pubblicità alla CN alle linee appunto della Lidl c'è chi fa la pubblicità alle linee del DM in ogni caso siamo pieni e tartassati di video prodotti corpo, prodotti viso, make up scusatemi ci vuole un caffettino a questo prodotti make up, prodotti viso e ovviamente ce ne facciamo spesso tentare e ci troviamo ad acquistare cose che magari poi ci troviamo a non utilizzare più quindi io per esservi in qualche modo utile vi farò l'elenco delle cose che non compro più partiamo da prodotti per capelli una cosa che non comprerò assolutamente più sono, le avevo comprate appunto sotto pubblicità del canale SS Style & Makeup però non mi è piaciuta la linea di Splendor io non l'ho trovata performante sui miei capelli preferisco magari spendere un po' di più e comprare una linea alle forniture di parrucchieri che è la mia solita Biolage con cui mi trovo benissimo oppure finalmente hanno preso Olaplex quindi preferisco magari raccogliermi i soldi e invece di comprare le cose che trovo al supermercato come le nuove linee garniere le nuove linee appunto naturali eccetera eccetera preferisco spendere un po' di più e andare alle forniture per parrucchieri altra cosa che non comprerò più ma compravo professionale sono i tonalizzanti le cosiddette i cosiddetti creme gloss creme color gloss per capelli sinceramente ve lo devo dire realmente io li compravo prima facevo un uso veramente quasi patologico della colorazione appunto chimica facendomela a casa facevo delle follie assolute ora essendo passata a una colorazione naturale appunto più adatta ai miei capelli e essendosi ripreso molto bene i miei capelli senza ossigenazione quindi senza ossigeno rivelatore senza tutti questi prodotti chimici comprerò assolutamente non comprerò tonalizzanti perché comunque anzi ho intenzione di fare proprio un decluttering e buttare dei tonalizzanti vecchi perché realmente ne avevo fin troppi e mi trovavo a non utilizzarli più andiamo ai prodotti unghie i prodotti unghie che non comprerò più voi sapete come è nata la mia passione per le unghie dopo l'incidente ho cominciato a appassionarmi ai semi permanenti a guardare continuamente video di queste unghie meravigliose con semi permanente eccetera eccetera e mi sono fatta prendere la mano dopo dei corsi considerato il fatto che non sono una delle più talentuose al mondo assolutamente no anzi se mi date un 5 o 6 è già tanto per le unghie che faccio perché lo ammetto però le faccio su me stessa e sono abbastanza contenta mi rendo conto di aver comprato troppi prodotti da provare ovvero troppi gel costruttori ho voluto provare per esempio una cosa che non comprerò più è l'acry gel l'acry gel io mi sono trovata a non utilizzarlo perché? perché mi si creavano bolle mi si creavano sollevamenti non ero assolutamente esperta nell'applicazione del prodotto e alla fine mi sono trovata con un'unghia infetta anni fa ho provato l'acry gel due o tre volte non l'ho più voluto provare ho levato tutto il prodotto possibile e inimmaginabile ho aspettato poi di fare un corso gel serio non è la tipologia di prodotto con cui mi trovo è troppo duro difficile da lavorare se non hai la manualità giusta non vi consiglio di comprarlo in assoluto per quanto riguarda i semi permanenti io vorrei fermarmi a una linea di semi permanenti che sono gli HDB di passione unghie sono quelli che mi sono durati di più sulle unghie non si sollevavano zero sollevamenti e sulle persone duravano circa due o tre settimane comprati questi forse non avrei dovuto comprare per esempio anche Diana Nails con cui sì mi sono trovata bene ad applicarle su di me ma sinceramente vi dico una cosa ero troppo troppo tentata dall'hype del colore caramella lo facevano vedere in tutti i gruppi per le unghie sinceramente è stata una tentazione forte ma avendo fin troppe basi per semi permanenti forse non l'avrei dovuto comprare e non ne comprerò più ovviamente non ne comprerò più mi fermerò alle basi semi permanenti che ho e terminerò lì detto questo io questa base semi permanente la utilizzo e la continuerò a utilizzare sempre come base gel perché la strong base va benissimo per la base gel altra cosa non compro più color gel perché? perché mi sono affidata alla passione per i semi permanenti mi piace troppo anche su gel mettere i semi permanenti quindi questa cosa per quanto riguarda le unghie i color gel sono una cosa che non compro più anche perché praticamente non li vado a prendere però detto questo terminerò quelli che ho già in uso e ho già comprato però non ne comprerei più quindi abbiamo terminato con le unghie per quanto riguarda il make up passo a dei prodotti che non comprerò mai e mai più non comprerò mai più la base quella la prime potion di Urban Decay considerando che comunque le basi occhi per la frequenza con cui mi faccio io il make up mi durano e dico mi durano veramente veramente tanto una è sufficiente e si ricompra la base quando si è terminata in ogni caso ogni tanto io sostituisco la base con un buon correttore in questo caso è soft touch e devo dire che per questo make up risultato ottimale ma ripeto di primer occhi non ne comprerei più perché ne ho già due quindi non ne compro più e in ogni caso potrei tranquillamente sostituirlo col correttore perché devo dire alla fine non mi cambia tanto l'unico che mi è piaciuto sui glitter è stato questo per il resto non ho trovato effetti wow sui miei occhi o colori particolarmente enfatizzati quindi una cosa che non comprerò per ora e più finché non mi finiscono sono i primer occhi primer viso per quanto riguarda primer viso non ne comprerò più perché devo finire di utilizzare i primer viso che ho già in uso tra cui questo che è verde e il primer appunto imitazione del Farsali di Revolution il Super Fruit Extract di cui avevo pure comprato il Refill quindi per quanto mi era piaciuto come luminosità quindi vi dico subito per ora non ne comprerò più finché non finisco e non smastisco questi per quanto riguarda gli illuminanti non comprerò più palette illuminanti perché ne ho una mi sta durando veramente tanto l'highlighting io non lo faccio d'esperta quindi la palette di illuminanti che ho già in uso mi basta veramente per quello che ho e poi ho i miei due tre colori che utilizzo a random quindi oltre questo non mi sento di provare nuovi illuminanti usciti da vari marchi palette di illuminanti per esempio come Becca non mi sento di provarli anche perché sinceramente non sono una delle mie passioni fare l'highlighting anzi il make up viso a volte non mi riesce nemmeno bene non sono un'esperta non ho fatto corsi quindi quello che ho ripeto mi basta e come andiamo a parlare di un'altra cosa un'altra cosa che non comprerò ma voglio consumare sono i blush i blush io alla fine compro sempre i due tre colori quindi farmi tentare dai colori più pazzi o dalle nuove uscite o da blush chiacchieratissimi mi sembra pressoché inutile altra cosa make up che non ho comprato più e non comprerò più sono gli ombretti di essence le palette di ombretti di essence mi hanno fin troppo deluso per anni non le trovo di una qualità che appunto ancora ancora la revolution sì ma le palette di essence non le trovo di una qualità tale da catturare appunto la mia attenzione inoltre mi provocavano allergia quindi ci voglio andare cauta e delicata è vero anche che con i nuovi trattamenti viso che sto facendo ovviamente posso posso tenere sotto controllo il problema della rosacea ma con l'estate tendo sempre di più a mettere meno tocco occhi e più matita quindi e mettere più i bronzer quindi non comprerò più blush ritornando a utilizzarli in inverno altra cosa che non compro è proprio sono proprio le palette contouring perché non comprerò più le palette contouring per il semplice fatto che io ripeto di contouring e sto imparando a farlo da poco quindi le due palette una che sto finendo e una che ho in uso che è la bronzing con cui mi sto trovando veramente veramente bene la bronzing e glowing sono più che sufficienti per l'uso casalingo che ne faccio io quindi voler sperimentare ripeto come per esempio la chic leader di benefit eccetera eccetera spendere soldi e mettere wish list per poi riempire il mio cassetto make up di cose che utilizzerò veramente poco non mi va non mi va assolutamente considerando il fatto che ho già i blush io li uso singoli quindi palette di blush bronzing e highlighting a me ne servono veramente veramente poco che dire e allora altro prodotto che non comprerò più sono ora passiamo dei prodotti di bestiario sono i cosiddetti calzini di calzedonia prima di tutto perché in questa stagione io uso dei fantasmini a parte che i calzini di calzedonia costano veramente veramente tanto la qualità comunque si va rovinando pian piano io trovo dei calzini decorati anche da da gennaro gruppo M quindi non mi sento più di spendere soldi in calzini di calzedonia considerando anche il fatto che li perdo li perdo mi ritrovo spaiati ci ho speso una spesa non indifferente e sinceramente non mi va considerato il fatto che io alla fine vado a prendere sempre e soltanto i fantasmini sportivi per mettere le solite sneakers anzi devo tirare fuori le superga che mi sono comprata l'anno scorso per iniziare a utilizzarle e quelle rosse insomma non comprerò più esatto andiamo a questo per ora non comprerò più scarpe perché sto consumando le scarpe che ho già in uso anzi ho da declatterare due paia di scarpe che non utilizzo assolutamente più io non voglio ingombrare il mio pacco di scarpe con scarpe che ho comprato per compulsione che poi non ho più potuto mettere quindi alla fine per non utilizzarle non utilizzarle c'è un è proprio e le dono a chi non se ne può permettere e se ne può mettere quindi preferisco fare la donazione in beneficenza per quanto riguarda i vestiti non comprerò più per ora t-shirt perché ne ho veramente veramente tante ho ingombrato praticamente il mio intero armadio di vestiti la mia parte dell'armadio compreso l'armadio di mio marito proprio con i suoi vestiti che devo declatterare in quanto ha perso 50 kg e quindi per fare perché io sto sposando ragazzi questa filosofia del minimalismo pian piano anche se non gli do il significato che gli da un minimalista ma semplicemente cerco di ridurre moltissimo gli acquisti compulsivi e cerco di ingombrare il meno possibile la mia casa allora altra cosa che non comprerò più sono le collezioni youtube è pienissimo di tutte queste reclami di collezioni è bello vederle io le vedo ma non mi sento assolutamente tentata di comprarle prima di tutto perché non tutte le collezioni appunto fanno al caso delle mie esigenze e seconda cosa ragazzi è un'altra cosa non poco importante ovvero ma se io ho quello che mi serve ma perché devo comprarne altri e altra cosa che non comprerò più per quanto riguarda il make up me lo stavo scordando sono i burro cacao delle varie collezioni compresi i coco love di clio make up della linea clio make up non ho mai comprato niente e a parte che vi dico ho testato anni fa una sua tinta labbra e assolutamente sulle mie labbra non funziona io vi do un parere personale sulle mie labbra clio make up non funziona i coco love sono dei burro cacao carini ma comprarne dei burro cacao che io utilizzo veramente poco ho utilizzato al massimo questi di labbello ma io praticamente non ne compro quasi mai cioè io non li utilizzo quasi mai tranne un attimino la sera oppure al posto del rossetto questi matitoni giambo al burro cacao e basta cioè comprare perché è uscito il coco love di clio se io poi finisco per ingombrare il mio cassetto make up assolutamente no bene ragazzi con le cose che non comprerò più ho terminato il video spero in qualche modo di avervi lanciato un messaggio positivo ovvero che non si deve per forza non comprare più ma sicuramente fare delle spese ragionate su quello che ci serve realmente e termino il video descrivendo il mio make up ho utilizzato la palette saltri di Anastasia Beverly Hills che sto realmente godendomi e ho utilizzato il suo tono corallo per quanto riguarda la matita ho utilizzato una vecchia matita che avevo in uso della collista ronca giall in cui ho fatto la congiunzione per quanto riguarda sotto e sopra dell'occhio la matita sopracciglia è una matita essence mi piace la sto utilizzando mi delinea bene e sono contenta e qui ho utilizzato un vecchio rossetto pescato ecco un'altra cosa è che non comprerò più rossetti dei toni freddi non li comprerò mai più perché l'amore per questi toni pesca è enorme e che dirvi io li adoro mi stanno benissimo e non comprerai più tutti quei rossetti e soprattutto rossetti solo per il gusto se poi non mi stanno quindi anche questo li voglio abbinare in armonia col mio incarnato e col mio colore di capelli che sta benissimo con i toni caldi quindi ragazzi io spero di avervi in qualche modo dato un messaggio positivo ovvero non comprate tutte le collezioni ma comprate quello che vi può essere utile che utilizzerete realmente capisco che youtube è fatto anche di presentazioni e di collezioni ma noi prima di tutto siamo persone spesso e volentieri non siamo nemmeno make up artist ma lo facciamo per il piacere di farlo perché siamo appassionati ma essere appassionati non significa ripeto accumulare cose ma spesso comprare delle cose mirate che abbiamo il sacrosanto piacere di utilizzare e terminare bene io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto like iscrivetevi e attivate la campanella per essere informati sull'uscita di tutti i miei video e mi raccomando uscite con prudenza e non dimenticate di starmi bene bene